Eh ma dopo senti... Silenzio, pronti? Vedete più vicini? Vai giù, più vicino a me. Davide, più vicino a me. Devi dire Italia, eh. Pronto? Italia! Italia! Aspetta, dopo devi dire uno. Dopo devi salire su, ma adesso. Noi diciamo Italia e te salti su, uno. Dai, vai giù. Vai giù, vai giù. Vai. Ma mamma, io non so come dire uno. Uno. Così, noi diciamo Italia e te salti, vai. Uno. Dai, faccio l'iniziale io per pizza. Dai, lo farei giù, ti fa vedere come devi fare lei. Noi facciamo Italia, dai. Italia! Italia! Hai visto? Rifacciamo insieme, dai, al tre. Dai, vai giù, vai giù via. Al tre. Uno, due, tre. No, aspetta, dopo il tre. Dopo il tre, aspetta. Dopo il tre, vai. Uno, due, tre. Italia! Oh no! Ecco, brava, fanno te uno, dai. Vai giù. Mettiti davanti. Sì, al tre, non è il tre. Pronti. Uno, due, tre. Italia! Uno! Devi dire uno! Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Grazie a tutti.